Grande paura, ospedalori, auto in fiamme, nel pacchetto, un'arma è scattata da 750 circa sul posto senza idrosi di vigile del fuoco, da chiarire ancora le cause dell'incendio. Insomma, una situazione non proprio delle più positive per uno degli ospedali probabilmente più importanti di tutta la regione Campania che vi ricordo già in tempi passati sarebbe stato il centro di determinate situazioni di tipo televisivo. Insomma, vi ringrazio per l'ascolto, questo verrà essere chiarito se è stato di natura dolorosa oppure di altra natura, intanto ringrazio voi tutti per l'ascolto, iscrivetevi, commentate e un saluto a voi tutti. Grazie 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 Grazie